Lei sa che il rapporto deficit-pill, lo dice chi conosce la matematica, è un rapporto tra numeratore e denominatore quindi deve essere ridotto il deficit ma deve anche aumentare il PIL se no è un gatto che si morde la coda Esattamente, infatti io mi occupo di aumentare il PIL Quindi se non aumenta il PIL è colpa tua Parzialmente, se mettiamo in parte è colpa mia E ti senti la sera quando vai a dormire, hai la coscienza tranquilla? Faccio fatica a addormentarmi